I trabocchi del Molo Nord di Pescara illuminati a festa per accogliere i migliori chef abruzzesi e il cortile dell'Aurum affollatissimo per lo spettacolo di Vittorio Sgarbi sono le migliori immagini del quinto giorno di Festa della Rivoluzione. Tra i rifesti del Ponte del Mare e della Ruota Panoramica i trabocchi pescaresi hanno dato risalto ai piatti del ricettario d'Annunziano preparati dagli chef stellati Spadone, Della Valle, Tinari, Di Masso e D'Ignazio. Il politico e critico d'arte Vittorio Sgarbi ha invece animato l'Aurum parlando di D'Annunzio, Futurismo e Fiume intrattenendo il pubblico per più di due ore in un mix fra cultura letteraria, artistica e riverenza politica che ha strappato qualche risata. Non esiste un uomo di lettere che abbia avuto curiosità così aperte per ogni disciplina che va dal teatro al cinema, alle arti, all'architettura e questo lo rende un uomo universale e rinascimentale quando ormai il rinascimento è soltanto memoria. Agli eventi hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, i consiglieri Montepara, Bocchino, De Renzi, Sequaresimale e il vicepresidente Domenico Pettinari.